Pavoro! 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 Questa mattina siete qui per un sitting di protesta a Taverna del Re. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo una cosa assurda. Sta accadendo che la Sapna che gestisce per la provincia di Napoli i siti di discariche e gli stir dove sono depositati centinaia di migliaia di metri cubi di rifiuti ha ridotto, ha pensato male, di ridurre i servizi di vigilanza armata a questi siti lasciando scoperte questi siti da ogni tipo di vigilanza qualificata. Quanti sono i siti sotto il controllo di guardie giurate e della Sapna poi? Sono praticamente tutti i siti che gestiono. Sono circa una quindicina tra siti, stir e discariche. un po' su tutto il territorio provinciale di Napoli. Quali danni si stanno riportando a livello occupazionale con questa decisione? Nel frattempo l'azienda attualmente impegnata presso l'appalto ha avviato una procedura di mobilità per 35 unità. È in fase di discussione perché noi abbiamo sollecitato un tavolo istituzionale presso la prefettura di Napoli e nel frattempo stiamo cercando delle risposte perché secondo noi questo taglio è un taglio illegittimo che va contro le normative vigenti. Da quanti anni sta lavorando qui a Taverna del Re? Da sei anni, dal 2009. Che cosa può succedere a questo sito se viene meno la vigilanza armata? Un disastro ambientale mostruoso. Visto che ci sono due chilometri linee d'aria, ci sono abitazioni e se si incendiano queste cobali ci sono un disastro ambientale. Sono ancora in pericolo d'incendio? Sono ancora in pericolo d'incendio queste cobali. Perché purtroppo il personale del bacino e del lavoro da lunedì al venerdì non fa pomeriggi, non fa niente e poi voglio essere spiegato come fa a fare un giro a piedi di 8 chilometri perché la leonesse mette a disposizione l'auto aziendale, il bacino non credo che abbia messo a disposizione loro un'auto per fare il giro di 8 chilometri. I palazzi del potere sono da loro salvaguardati da centinaia e centinaia di unità e noi che stiamo lavorando, abbiamo 35, 36 anni di servizio, dalla sera alla mattina ci troviamo in mezzo alla strada. Noi dobbiamo cercare di risolvere questo problema, non sappiamo che cosa fare.